e bentornati a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio in questa nuova video real action del canale 9 electric studios allora oggi vedremo come annunciato nel video precedente la lotta contro l'ugia e andiamo a vedere subito cosa abbiamo i partecipanti allora abbiamo partecipate farry king adesso è un mio amico solo che non ho il video qua non riesco un attimo a vedere perché ce l'ho in piccolo perché devo vedere un attimo un'altra roba ma comunque abbiamo un agron tyraniter un chiorre si prova con un chiorre vabbè dragonite è un golem e un wall rain quello ce l'ho anch'io e comunque andiamo a vedere cosa succede abbiamo 10 secondi all'inizio pronti via 9 8 7 6 5 4 3 2 1 via allora adesso si è una schermata è gigantesca ragazzi guardate è immenso due agron ottimo e un chiorre quindi non è lui che ha chiorre ottimo vai cioè poco di ha tolto più di metà vita con un colpo solo roba fantastica proprio pazzesco vabbè quindi vediamo vabbè agron non ce l'ha fatta e quindi allora proviamo con payraniter vediamo non ce la farà probabilmente neanche lui perché è stato giù parecchio comunque sono in sette sei sette quindi c'è un altro lugia fantastico proprio l'ugia contro l'ugia mitico allora tyraniter è andato giù però lo stanno guardate la vita di lugia come sta scendendo rapidamente proprio proprio vediamo chi ognuno no 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 fermi un attimo oddio con un colpo gli ha tolto tutta la vita è fortissimo ragazzi ai 42.700 vabbè è fortissimo cioè avete visto quanto gli ha tolto con un colpo solo roba pazzesca ok continuiamo vediamo vabbè non ce l'ha fatta è andato giù e Dragonite non ha fatto neanche tempo fare un colpo è già crepato cioè comunque cos'è che abbiamo un lugia shiny c'è un lugia shiny là dietro avete visto pazzesco ha trovato un lugia shiny non pensavo che fossero anche mitico e intanto è stato sconfitto iper pozione caramella rare polvere stelle e tanti tanti punti esperienza danni abbiamo maggioranza squadra rossa come sempre più 2 quindi più 9 abbiamo tolto 9 ball vediamo come funziona la cattura allora si è abbassato al livello 2 livello 2000 baccarampon dorata sempre a cerchito rosso quindi veramente difficile da prendere quel cerchito rosso molto difficile prima ovviamente funcisce che vuoi prendere il primo colpo proviamo altra bacca dorata proviamo palla curva nessun punto extra allora vediamo secondo questo secondo tentativo secondo tentativo secondo tentativo l'ha preso mamma mia quindi pensavo fosse molto più difficile prendere i leggendari però meraviglia assoluta allora per questo episodio è tutto vi ricordo di guardare i miei video fino in fondo perché ci sarà eventualmente in alcuni video ci saranno delle clip extra degli extra e delle informazioni varie dopo detto questo vi consiglio di iscrivervi se volete iscrivervi spolliciare ovunque poi io vi lascerò a fine video vi lascerò il link anche in descrizione che riporta il video precedente se non l'avete visto vi consiglio andare a vederlo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e cosa volete che porto e quindi un saluto elettrizzante ciao prima o poi ce li avrò anch'io tutti i leggendari a breve potrei fare l'episodio anche di Moltres Latios Latias magari forse usciranno